I carabinieri forestali, nel corso di un controllo nel mercato comunale di Serra San Bruno, hanno sequestrato 60 kg di prodotti alimentari. I militari, con il supporto del servizio veterinario e igiene degli alimenti dell'azienda sanitaria provinciale di Vivo Valencia, hanno accertato che i due commercianti detenevano e disponevano per la vendita alimenti, privi di qualsiasi documento o etichette in grado di garantire la tracciabilità. Si è sequestrati 25 kg di formaggi, 33 di insaccati e 3,8 di ventricelle di stocche seccate, per un valore complessivo di mercato di alcune migliaia di euro. Agli ambulanti sono state levati sanzioni amministrative per un importo pari di 3.000 euro. Si era incamminato sui monti in zona tavolara, nell'area del Parco Nazionale del Pollino, per una passeggiata e aveva smarrito la strada del ritorno. Un trentenne laziale in vacanza con alcuni amici, disperso dalla serata di ieri, è stato ritrovato immattinato da una squadra di Calabria Verde dagli operatori del soccorso alpino Calabria. Le sue condizioni di salute sono buone, alla ricerca hanno partecipato carabiniere e vigili del fuoco. Un medico in servizio al 118 di Rossano è stato coltellato nel pomeriggio di ieri durante un intervento di soccorso avvenuto nel centro storico dalla cittadina ionica del Cosentino. A bordo il medico era un infermiere che arrivati davanti alle abitazioni interessate al soccorso si sono trovati davanti un uomo e una donna dolorante, il primo armato di coltello e per ragioni che sono ancora in fase di accertamento si sarebbe però scagliato contro i soccorritori, raggiungendo il dottore e colpendolo con un fendente alla mano e costringendolo a rincorrere alle cure dei colleghi del pronto soccorso. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Grotone ieri mattina sono intervenuti in via Giovanni Paolo II a seguito di un furto perpetrato nella nottata presso il distaccamento cittadino della regione Calabria, l'ufficio territoriale agricoltura, trasporto ed emanio. I ladri, dopo aver forzato le finestre, si sono introdotti nell'ufficio ed emanio e difesa del suolo e in quello della scuola di istruzione, portando via un personal computer, sono in corso indagini a cura della compagnia carabinieri di Grotone. L'uomo ha perso molto sangue, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha portato il cittadino petronese al nosocomio di Catanzaro. I carabinieri hanno sorpreso un operaio 48enne di Mesoraca in possesso di una pianta di cannabis, indica dell'altezza di 3 metri durante una perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri del comando crotonese. Al termine dell'attività la pianta è stata sequestrata, mentre l'uomo è finito ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. I carabinieri forestali di Cosenza hanno sequestrato un'area di proprietà comunale che era stata trasformata in una discarica abusiva e per questo denunciato anche il sindaco di Marano e l'amministratore della società che gestisce sul territorio la raccolta dei rifiuti solidi urbani. All'interno del terreno i militari vi hanno trovato rifiuti urbani ingombranti dati alle fiamme e alla sua combustione. Ha provocato grosse colonne di fumo nero e malodorante. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza. Un vasto incendio ha mandato in fumo 900 balle di fieno, località Santa Barina di Scandale, nel terreno di un'azienda agricola dell'imprenditice, Francesco Bonparola. Sulle cause del rogo stanno indagando i carabinieri che non escludono alcuna pista. Controlli dei carabinieri in uno stabilimento balneare incontrato a marinare del comune di Cutro hanno permesso di eseguire un sequestro penale del valore commerciale di circa 10.000 euro. In tutto il titolare è un 34enne di Cutro che ora dovrà rispondere di ricettazione. Sono stati sottratti 45 ombrelloni, 49 lettini, 56 piantoni di sostegno per ombrelloni, 38 tavolini, 49 sdraio che erano stati accantonati all'interno di un magazzino ma tutti riportati il logo di un altro lido balneare. Infine, un 29enne grotonese senza fissa dimora è stato denunciato per tettato furto presso alcuni box presenti in un complesso residenziale di Grotone, dono nominato Cooperativa Ackley Croton. Tre pedane del villaggio Eucaliptus, situato nella zona marittima del comune di Simiri Cricchi, sono state date alle fiamme ieri notte quando i gnoti si sono introdotti nella struttura e gli hanno dato fuoco. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine e chiamato un'altra volta sul posto dopo l'ennesima denuncia. Già nello scorso mese di giugno infatti sempre i gnoti hanno appiccato un incendio nella struttura e che aveva distrutto il palco, centinaia di sedie e le passerelle per la spiaggia.